Se siete fotografi in cerca di consigli per migliorare i vostri scatti siete venuti nel posto giusto. Nel corso di questo video andiamo a guardare insieme e commentare le fotografie che mi ha mandato uno di voi. Mandarmele per partecipare è semplicissimo, mi scrivete un messaggio privato su Instagram con un link che non scade, quindi Amazon Photos, Google Photos, Flickr, Dropbox, quello che volete, ma non WeTransfer perché io non le guardo subito, le guardo magari dopo 20 giorni perché siete in tanti, c'è una lunga coda ormai, siete in tanti che partecipano. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia e quindi chi meglio di me può darvi dei consigli per migliorare le vostre fotografie. Io cerco sempre di essere tenero con voi, nel senso che non voglio buttarvi giù dicendovi che le vostre foto non vanno bene, quello secondo me è sbagliato, io non sono qui per dirvi fate schifo, io sono qui per dirvi va bene ma questa cosa poteva essere gestita in un altro modo. Se questo tipo di approccio vi piace io vi consiglio di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto anche perché se mi mandate le vostre foto ovviamente chi è iscritto avrà la precedenza. Cominciamo subito con questa prima immagine, mi pare che siamo a Torino e stiamo usando una Canon EOS 4000D, stiamo scattando a 36 mm, probabilmente stiamo usando l'ottica kit, mi viene da pensare per quel 36 che non è un 35 quindi sarà probabilmente uno zoom. Questo è un classico esempio di framing dove non era facile gestire l'illuminazione, non è sicuramente questo contrasto evoluto perché abbiamo questa androne che rimane nero mentre l'esterno è esposto correttamente e abbiamo questa lanterna che sta proprio a perpendicolo sopra quella che secondo me è la molle antonelliana. La foto non è perfettamente simmetrica per via del fatto che facendola perfettamente simmetrica probabilmente la corrispondenza tra la lanterna e la guglia della molle non sarebbe stata allineata. Secondo me ci sta, è una foto che ha senso ma è uno studio secondo me, cioè questo è uno studio sul chiaroscuro sull'esposizione e sulla composizione. Ci sta, va bene, lo studio è ok, però secondo me questo è uno step che noi facciamo per poi applicarlo in contesti dove la fotografia sia più premiante. cioè in questo caso funziona, non ho niente di particolare da obiettare però non è particolarmente forte. Andiamo avanti e vediamo cos'altro c'è e qui abbiamo questa secondo me è già più, ma questo è un gusto personale. A me piacciono molto le fotografie di questo tipo perché qui abbiamo delle stelle di notte con anche un accenno di nuvolette che rimangono un pochettino più chiare, illuminate probabilmente da inquinamento luminoso. Vedete quello di cui parlavamo qualche giorno fa sotto un altro video. Allora, il discorso qual è? In questo caso abbiamo le stelle che a me non sembra che ovalizzino, mi sembrano abbastanza puntiformi e quindi la foto è scattata con i parametri più corretti possibili. E infatti è scattata a 50 mm a 30 secondi di posa, che è già tanto 30 secondi di posa. A seconda dell'angolo di campo dovremo variare lievemente i tempi. A giudicare dalla quantità di rumore che vedo in questa foto, perché comunque è una foto al buio, quindi di rumore ce ne sarà sempre un po'. A giudicare dalla quantità di rumore, mi viene da pensare che questa foto sia stata scattata a ISO 800, e questo lo vedo dai metadati, è stata scattata a ISO 800, ma io credo che poi sia stata spinta la luminosità in post-produzione. Questo produce più o meno lo stesso effetto che se l'avessimo scattata a ISO 1600 o 3200, cioè la scattiamo troppo buia e poi dobbiamo pomparla in post-produzione, comunque introduciamo più o meno lo stesso rumore, poi dipende dal sensore, dipende da tante cose, ma più o meno introduciamo lo stesso rumore che speravamo di evitare scattando con gli ISO più bassi. Io qui avrei sparato gli ISO un pochino più alti perché avrei avuto una foto più corretta e magari scattavo a 20 secondi invece di 30, così scongiuravo qualsiasi problema di ovalizzazione delle stelle dovuto al movimento. Chiaramente una foto del genere, quello di cui parlavamo l'altro giorno, si diceva eh ma tanto con qualunque macchina riesci a fotografare le stelle. Sì, con qualunque macchina riesci a fotografare le stelle, però più la macchina è acerba, più la macchina è entry level, più l'ottica è buia e più rumore avrai e più avrai le stelle che ovalizzano. Quindi certo che ci riesci, questo portfolio ce lo dimostra, ci riesci a fare la cosa. Sei molto penalizzato dalla macchina che stai usando. Se questa stessa foto fosse stata fatta con una macchina full frame e con un'ottica con una grande apertura, che ne so, un f2.8 invece di... Questa è una cosa molto strana, perché ci sono i metadati però non mi fa vedere il diaframma a cui è stata scattata questa foto. Che strano, perché non mi fa vedere il diaframma? Quindi non so a che diaframma è stato scattato. Però chiaramente se io avessi avuto, io presumo che questa sia un'ottica kit, quindi presumo che sia stata scattata a f3.5, magari anche f5.6. Se noi avessimo scattato a f2.8 e potevamo scattare a 20 secondi, rimanendo sempre a ISO 800 e chiaramente l'effetto sarebbe stato migliore. Se avessimo avuto addirittura un f1.4 magari potevamo addirittura scattare a 20 secondi andando a ISO 400. Quindi i vantaggi sarebbero stati molteplici. Con la strumentazione che avevamo è un ottimo risultato questo. Sto solo elucubrando su quanto sia determinante la strumentazione in certi casi e in questo caso chiaramente avere una macchina molto acerba, molto entry level, ci permette di fare la foto ma ci consegna un file con un po' di problematiche, con un po' di rumore. Non è colpa nostra, noi abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto il meglio che potevamo, però in questo caso la strumentazione un pochino ci ha zoppa. Andiamo avanti, scatto architettonico che ovviamente non mi dispiace, a me non dispiace mai l'architettura. Qui chiaramente dalla posizione in cui ci trovavamo probabilmente non era possibile farla perfettamente dritta. Io apprezzo il tentativo perché è quasi dritta, quasi. Però in questi casi io la raddrizzerei in post produzione. Si vede molto chiaramente che il lampione da una parte e le architetture sull'altro lato non sono perfettamente dritte. Lì basta aprire in post produzione, si raddrizza. Ho già fatto diversi video in cui mostro come si fa, io l'avrei fatto. Era un ritocco piccolo piccolo, invisibile. È una modifica invisibile raddrizzare le linee, non ce ne si accorge. Io se l'avessi guardata raddrizzata non avrei saputo dire che era stata raddrizzata, avrei solo visto che era più gradevole. Ed è una cosa che si può ancora fare, quindi io la farei questa cosa. Andiamo avanti, ecco vedete questa, almeno mi pare, che non abbia bisogno di essere raddrizzata perché scattiamo da un punto di vista, tiro io a indovinare, più sopraelevato e quindi il nostro punto di osservazione ci permette di mantenere le verticali dritte. Siamo chiaramente a Torino, qui credo che ci sia anche un trattamento dell'immagine che mi sembra lievemente desaturata. L'esposizione va bene, abbiamo di nuovo questo gioco di framing con la lanterna che va a posizionarsi esattamente sullo zenith della guglia della molle antonelliana. È una foto che funziona, non è particolarmente forte, cioè è un gioco. Anche qui è un gioco, è uno studio che stiamo facendo di allineamento e di composizione, quindi ci sta e va benissimo farlo. Il risultato è un risultato da studio, non è un risultato da wow, da portfolio, secondo me. Andiamo avanti e qui il nostro fotografo ci dimostra di sapere anche un pochino giocare coi tempi, anche se qui a me questo sembra più un esperimento di nuovo, mi sembra più uno studio che uno scatto riuscito. E andiamo a guardare un attimino i dati. Noi qui stiamo scattando a 62 mm, quindi non ho la minima idea di che ottica stia usando a questo punto, perché non è l'ottica kit, e stiamo scattando a un trentesimo di secondo f16. Questo ci dice una cosa, f16 è un diaframma chiusissimo, quindi chiaramente per scattare di giorno con l'effetto mosso abbiamo chiuso tutto il diaframma. Io qua, ragazzi, io qua andrei a mettere un filtro. Andatevi a vedere video che ho già pubblicato in cui si parla dei filtri, soprattutto dei filtri ND per fare questo tipo di cose, per fare delle pose più lunghe durante il giorno. Ti cambiano la foto da così a così se prendi quelli giusti. Quelli che costano poco introducono dominanti cromatiche, quelli che costano tanto invece sono veramente neutri e ti permettono di allungare i tempi però senza dover chiudere a f16, perché se chiudi a f16 con un'ottica adatta a essere usata su una macchina entry level, quindi un'ottica entry level, hai una diffrazione pazzesca, anche se la foto è a fuoco ti sgrana un po' tutta e questo è un peccato. In questa foto in particolare a me sembra che si volesse fare del panning, mi sembra una foto da studio, però non riesco a capire se è veramente centrata, perché questa persona che si muove in bici, a quello che è la mia interpretazione dovrebbe essere il soggetto, non è così a fuoco da farmi dire che la foto è riuscita bene e lo sfondo non è così motion blurred da farmi pensare che la foto sia riuscita. Quindi per me questo è uno studio sul panning che però ha bisogno di un'evoluzione, cioè così non ci siamo ancora secondo me. Anche per quanto riguarda la composizione, io in un panning l'avrei voluto più vicino questo ciclista e avrei voluto vederlo bello crispy, bello a fuoco e vedere lo sfondo maggiormente sfocato. Quindi questo è uno sprone. Secondo me questo è un punto di partenza, ma va sviluppato questo discorso. Andiamo avanti. Questa allora è granitica, è molto forte nella sua simmetria, anche se anche qui io so che le architetture non sono sempre dritte, però io una raddrizzatina imposta queste due colonne le avrei data comunque. Mi rendo conto che è molto forte così, però ho questa silhouette così forte, secondo me quasi troppo contrastata. È veramente tanto. Io avrei tenuto i neri un po' più indietro perché la figura di questa persona io non la vedo proprio, cioè la testa non gliela vedo proprio, vedo soltanto la silhouette della bicicletta. Può avere senso, mi sta benissimo che ci sia la scritta di Gucci dietro, ho anche capito in che via siamo. Io se è sempre Torino conosco più o meno la città, mi piace molto e ci sono stato lì. La foto ha senso, non è che non abbia senso. Diciamo che secondo me è un po' troppo forte questo contrasto, un po' troppo marcato. Mi domando sempre, senza questa botta di contrasto la foto funzionava lo stesso? È questo che ci dobbiamo domandare, perché se funzionava lo stesso allora era fatta bene, ma allora non avevamo bisogno di spingere così tanto. Se la foto funziona solo in virtù del fatto che abbiamo tirato il contrasto a 100, forse potevamo fare qualcosa di meglio per avere un effetto più naturale anche semplicemente in macchina. È la mia idea. Ma ditemi che cosa ne pensate voi? Scrivetemelo qui sotto in un commento così poi ne parliamo tutti quanti insieme. Andiamo avanti. Questa non mi dispiace. Anche qui siamo sempre a livello di studio, secondo me, perché questo è chiaramente uno studio sul movimento, sulle pose lunghe. E qui abbiamo un ISO 100, abbiamo un F4 e un 5 secondi di posa. Il che è interessante perché significa che siamo in una zona oscurata, abbiamo molta poca luce, siamo probabilmente in interni. Questo è un gioco che a me piace, secondo me vale la pena farlo e vale la pena studiare questo tipo di cose. Questo di nuovo secondo me è uno studio. La cosa figa che possiamo fare in più qui è aggiungere il flash, perché così noi abbiamo la foto fatta col flash e quindi abbiamo le nostre fattezze esposte correttamente. Poi ci muoviamo prima o dopo lo scatto del flash e quindi abbiamo il fantasma intorno però con una parte a fuoco, una parte che vada sugli occhi che siano magari a fuoco. Secondo me quello è uno studio ancora più interessante che è l'evoluzione naturale di questo. Un consiglio, io ci proverei. Siamo sempre a Torino, qui io vedo che abbiamo sempre un trattamento di color grading sul cielo e sulle strutture che ci sta. Mi domando se sia uniforme e mi sembra di no, cioè non c'è una corrispondenza uno a uno tra il colore di questo cielo e il colore dei cieli visti prima. Io trattandosi di un portfolio che parla della stessa città li avrei uniformati un pochino di più, a meno che sì magari è la luce del tramonto che cambia, allora dà un effetto diverso o magari giorni diversi, però vedo tanto la differenza e vedendole nello stesso portfolio mi domando se non sarebbe stato meglio uniformare un po' questi colori. C'è sempre qualcosa che secondo me può essere migliorato in questi studi di architettura e di allineamento. In questo caso la foto di per sé va bene, cioè lo capiamo tutti l'intento. C'è la molle antonelliana che stiamo usando come punto di riferimento e la stiamo incorniciando con altre cose. Questo cartello che sembra, non lo so, sarà il cartello di un'osteria, di una taverna, qualcosa, che però gli picchia contro alla guglia, secondo me un po' c'è la scardina questa foto. Io avrei provato a evitare quel ditone che mi va a indicare la guglia perché gli sta proprio addosso e secondo me me la ammazza un pochino. È una mia opinione, magari a voi da casa piace tantissimo così e vi invito a farcelo sapere nei commenti. Andiamo avanti e questa potrebbe essere una di quelle che mi piacciono di più fino adesso e ve lo dice uno che la street non l'ama proprio tantissimo. Qui abbiamo un bianco e nero secondo me riuscito di una vetrina di una libreria da fuori dove vediamo dentro non capisco se è una cliente o una cassiera ma non importa granché perché questo fare pensoso e un po' misterioso mi porta dentro e mi incuriosisce. Quindi questa secondo me funziona. Il trattamento del bianco e nero funziona, è assolutamente adatto. Mi sembra anche bella dritta. Quindi su questa veramente ho poco da dire. Secondo me funziona, non è il mio genere, a me non piace la street, non l'apprezzerò mai fino in fondo, però la foto secondo me funziona, è composta bene, è fatta bene, gestita nella maniera giusta. Andiamo avanti e qui abbiamo di nuovo un tentativo di gioco con il movimento. Questa secondo me funziona un po' di più di quella di prima. Abbiamo fatto una scelta lievemente diversa, quindi qui siamo a f11 e un ottantesimo. Quindi quello che abbiamo fatto è che abbiamo aperto un pochino il diaframma e abbiamo stretto un pochettino con i tempi di scatto. Questo ci ha permesso di portarci a casa il nostro soggetto principale più a fuoco rispetto a prima e siamo anche più vicini e secondo me è questo il motivo per cui funziona. Qui secondo me se avessimo utilizzato una posa più lunga e ovviamente facendo il corretto movimento di panning avremmo avuto un effetto mosso più invasivo sullo sfondo che avrebbe dato un look tutto diverso a questa fotografia. Secondo me con il panning ci sta, è un bel gioco, è una cosa che va sperimentata e metterci più vicini al nostro soggetto, più vicini di così. Qui stiamo scattando con un 45 mm. Se noi ci fossimo messi secondo me un pelo più vicini avremmo potuto fare un movimento di panning più ampio quando il nostro soggetto ci passa vicino. Facciamo un movimento di panning più ampio con un grande angolo e questo ci permette di sfocare maggiormente lo sfondo, di dare un effetto movimento maggiore sul nostro sfondo, soprattutto se ci mettiamo sugli angoli. Quindi ci mettiamo in un angolo della strada e facciamo la foto della persona mentre passa, della bici mentre passa. Sono esperimenti da fare. Secondo me in questo tipo di foto più riusciamo a dare movimento allo sfondo e meglio è. Quindi dobbiamo trovare il nostro limite che ovviamente dipende anche dalla velocità a cui procede il nostro soggetto. Sono tutti studi molto interessanti da fare. Secondo me qui si poteva tirare un po' di più su questa velocità. Andiamo avanti. Qui abbiamo di nuovo qui secondo me è evidente che c'è stato un color grading che mi piace anche. Trattamento che spesso faccio anch'io in questo modo. Diciamo che secondo me è un po' forte. Ci sta. Ci può stare. Lo trovo un po' forte perché è molto evidente che c'è stato. È molto cinematografico però ci sta. La macchina molto bella. Mi rendo conto dell'intento compositivo. La foto secondo me funziona e può anche essere molto forte perché qui abbiamo un ragazzo che sembra molto giovane che sta ammirando la macchina dei suoi sogni. Quindi ci sta. Secondo me è gestita molto bene. Lo scatto è molto forte e è anche un look molto cinematografico. Questa e quella dell'edicola in bianco e nero probabilmente sono le mie preferite. Quindi visto che questa era anche l'ultima devo trovare qualcosa da eliminare. Sapete che io devo sempre trovarvene un paio che io personalmente avrei tolto. Allora cominciamo col dire che io ne toglierei una delle due con la lanterna sopra la guglia della molle antonelliana. Perché ne toglierei una delle due? Perché sono uguali. È la stessa cosa. È lo stesso concetto ripetuto da due o forse addirittura tre angolazioni differenti. Secondo me quel gioco lì lo fai una volta e ok lo fai una volta e lo posso apprezzare. Ma se lo fai due tre volte la seconda volta non lo sto più apprezzando. La terza volta sto pensando che mi stai facendo vedere sempre la stessa cosa. Quindi io ci andrei piano su una cosa del genere. E così in realtà forse già ne eliminiamo due perché ho ricontrollato effettivamente erano tre. No per il resto le altre vanno tutte bene. Sono secondo me molte di queste foto sono degli studi. Quindi sono delle crisalidi che devono poi aprirsi e tirare fuori la farfalla. Soprattutto quelle sul panning. È l'esempio perfetto. Perché quelle secondo me sono prove di panning e io mi aspetto di vedere delle foto come quelle nel rullino quando torno a casa quando ho cominciato a fare panning. Quindi io comincio, faccio le mie prove, le prove vengono così, poi mi allineo, capisco la velocità cui viaggiano i miei soggetti. Considerando che siamo su una strada e sperando che i soggetti arrivino tutti alla medesima velocità. Perché ovviamente se ci tariamo su uno che va sparato, su un ciclista professionista che va a 200 all'ora e poi arriva la zia Ernesta che va con il triciclo e lì i tempi che abbiamo calcolato noi con il panning non vanno bene, lì dobbiamo ritararli. Quindi però supponendo, assumendo e sperando che i nostri soggetti procedano più o meno alla stessa velocità, io mi aspetto di vedere scatti come questi all'inizio del rullino quando stavo cercando di prendere il tempo ai miei soggetti. Poi con il terzo, quanto, quinto, diciottesimo, trentacinquesimo scatto mi aspetto di vedere un soggetto più a fuoco perché ormai ho preso la mano, ho capito il movimento e mi aspetto di vedere uno sfondo maggiormente sfocato con uno stacco maggiore. Quindi nel caso tenete conto che potete partecipare nuovamente a questo format e se decidete di partecipare nuovamente sarebbe bello che mi portaste un'evoluzione di quello che avete già fatto. Quindi in questo caso io la cosa che sicuramente chiederei sarebbe un'evoluzione sul panning. Voglio vedere un soggetto più staccato dallo sfondo. Vorrei, vorrei vedere un soggetto più staccato dallo sfondo idealmente e quindi questa è la sfida di oggi. A questo punto ragazzi io vi chiedo come sempre fatemi sapere in un commento qual era la vostra foto preferita di questa rassegna, se ne avreste eliminata qualcuna, se avreste fatto qualcosa diversamente. Per partecipare riguardatevi l'inizio del video perché vi ho già detto come si fa nei primi secondi, quindi riguardatevelo, ci sono già lì tutte le spiegazioni. Vi ricordo di iscrivervi perché quelli che si iscrivono oltre ad avere la precedenza, nel caso mi doveste mandare fotografie da recensire, avranno anche tutta una serie di vantaggi tra cui che rimanete sempre aggiornati sui video che faccio uscire e ci sono consigli per migliorare le nostre foto e consigli su cosa acquistare per non sprecare soldi di strumentazione inutile, quindi ci guadagnate di più voi se vi iscrivete subito, credetemi. Io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.